oscar il sottomarino e leo il camioncino curioso siamo in fondo al mare chi abita questa casetta tutta rosa grazie ehi questo sembra il cassone ribaltabile di un camioncino prendiamolo ciao ehi ma l'abbiamo visto prima noi e ora che facciamo proviamo non vuole lasciarcelo ma non dobbiamo arrabbiarci oscar forse accetta uno scambio grazie un fiore e un sorriso per il cassone di un camion ciao speriamo di rivederci presto anche lei è rimasta contenta guardate delle tessere di un pazzo uniamole e sapremo cosa dobbiamo comporre proviamo adesso lo avete riconosciuto è leo il camioncino curioso e questa è la cabina del camioncino leo una parte della costruzione che stiamo per fare prendiamola e continuiamo a cercare c'è qualcosa qui si distinguono i paraurti e il telaio portiamola a casa eh lo assembliamo insieme le quattro ruote il telaio il cassone ribaltabile e la cabina mettiamola insieme ha fatto il modellino di leo è pronto lo mettiamo su una mensola come gli altri giocattoli ciao dal fondo marino alla prossima sorpresa lui è il piccolo sottomarino oscar e lui è il polpo anche lui nuota nel mare e quello che cos'è un piccolo pezzo di un puzzle oscar lo prende con sé bellissime oscar ha trovato delle conchiglie stupende ne prende una e la lancia in alto ed ecco che ne prende un'altra bellissime e la terza riesce a giocare benissimo con le tre conchiglie si diverte si diverte ha trovato qualcos'altro la corta conchiglia blu rossa gialla e verde o 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 cosa c'è laggiù? ma quello è un parco giochi sottomarino divertente e quella che cos'è? una vela oscar perché non la prendi? questa è la casa di oscar lui giocherà qui lui gioca sempre qui la vela le due parti della nave e l'ancora assembliamo il tutto che bella barca che hai costruito bel lavoro oscar ora è tempo di andare a dormire sono le nove di sera buonanotte oscar a presto per cercare altre meraviglie perdute nel mare e la 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 la